ricciola ricciola è una piccolina allora nooo considerate che quella è un 3 kg che abbiamo preparato adesso sono 5-6 kg adesso qual è quello? quello è il mercolino porta a registrare no ma pensare che non sta a scuola? non sembra il mercolino è una palamita non, ma palamita non si andate a fare l'arruzione palamita non si andate a fare l'arruzione palamita combattere l'arruzione si, to si, to si, si, è proprio qua vicino la vedo un po' l'arruzione la sono il pano largo, la sta segnando stanno allo sciocco un dentice hai beccato un ecco no, che cazzo è? ma due sono due sono due no, non lo consiglio no, che cazzo prendi un po' dai c'è il copo avvicini avvicina qua no aspetta aspetta prendili due due in una carata ahahah ahahah ho paura ahahah ho paura ok ok qua deve essere come grido ahahah 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 fermo mamma ahahah 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 Ho detto che ci sono un po' l'ultimo